Insomma Giorgi, l'ultimo regalo di Roberto Cusolini sono questi 64 euro ipotetici di aumento ai dipendenti comunali. Ma infatti ipotetici perché non c'è nessun tipo di copertura, è una linea guida, è così l'ennesimo scimmiottare il Renzi nazionale, quello che ha dato gli 80 euro a qualche categoria, però poi insomma gliene ha tolti ben di più, per cui guarda caso dopo 5 anni trovano il modo teorico di dare così, si dice la mandorla elettorale, mi prendo tutte le responsabilità insomma, ennesima dimostrazione non solo della cattiva capacità di amministrare, ma insomma di cercare alla fine di convincere i cittadini con qualche spicciolo che comunque non arriverà. Nelle ultime due settimane abbiamo visto di essere libere a impianti sportivi, a società sportive, però una volta si diceva la lira leggera, qui invece abbiamo fatto l'euro leggero. L'euro inesistente, sono costretti nell'incapacità di trovare fondi e finanziamenti, a spostare i soldi da una parte all'altra, un po' come il gioco delle tre carte, per cui un giorno accontentano uno e il giorno dopo lo scontentano perché devono spostare i soldi. Assolutamente anche sugli impianti sportivi una cattiva amministrazione. Sì, però scusa, se io qualche mese fa ti dico guarda dove dati sui 15-20 mila euro e dopo te ne do tre, quattro, insomma, anzi fai forse incazzare ancora di più. Ma non hanno la più pallida idea cosa vuol dire amministrare un'associazione sportiva piuttosto che un'associazione che fa promozione culturale, a meno che non sia una loro, per cui sono molto bravi a portarla avanti. Purtroppo non hanno la più pallida idea di quella che è la realtà. Come per i problemi veri della gente, loro vivono nel loro mondo ovattato qui dentro in comune e per fortuna da lunedì io credo che dovranno andare da qualche altra parte.